Si sono rinnovati anche quest'anno gli ormai tradizionali auguri di Buon Natale a Via Mendola. L'iniziativa, nata in maniera spontanea tra le famiglie della strada ubicata nelle adiacenze del Corso Cittadino di Agropoli, ha visto negli anni crescere i momenti di attrazione e convivialità. La presenza degli zampognari, dei giovani con i loro strumenti musicali, dei canti della tradizione agropolese riproposti da più anziani, il tutto vissuto in processione fino al presepe del Pozzo, con la benedizione del parroco della Chiesa Madre Don Carlo Pisani. Quest'anno l'evento si è concluso con la presenza della slitta volante e la tempesta di neve preparata dai coniugi Tiziana e Simone Murino con i figli Andrea e Mattia, un modo bello e gioioso di augurare a tutti Buon Natale, da vivere nel calore delle proprie famiglie e della nascita in ogni casa del piccolo Gesù Bambino. Buon Natale! Buon Natale!